Anche gli aggiornamenti di oggi riguardano la direzione di Archiv. Qui gli ucraini hanno mantenuto costantemente l'iniziativa in tutte le direzioni attive nella regione, infliggendo pesanti perdita alle forze russe non solo nella città di Vovchansk ma anche durante i loro contrattacchi a nord di Lipsi. A seguito della ricattura delle posizioni a sud-ovest di Liboke, hanno cominciato ad ammassare forze addizionali intorno a Lipsi per la prossima fase del piano, che prevede a respingere le forze nemiche oltre il confine internazionale. I comandanti ucraini hanno cominciato con lo schierare nuovi rinforzi, cosa confermata dai soldati del fronte che hanno riportato dall'arrivo di due nuove brigate intorno a Lipsi a supporto di nuove operazioni offensive. Cosa confermata anche dai soldati russi che hanno riportato ai blogger militari di aver notato un accumularsi di equipaggiamenti vicino alla linea del fronte e rinforzi sotto forma di diversi scaglioni nel corso degli ultimi giorni. I comandanti russi hanno fornito altri dettagli, rivelandosi allarmati dell'alta concentrazione di battaglioni d'assalto ucraini lungo l'intero fronte. Questi accumuli suggeriscono che le forze armate ucraine si stiano preparando a una maggiore controoffensiva, supportata da artiglierie e lanciamissili di fabbricazione occidentale. Da poco sarebbero infatti arrivati più di 75 missili Atakams dalla Polonia, con almeno la metà attestata a grappolo. Gli ucraini hanno inoltre continuato con i loro assalti contro le posizioni russe dentro intorno all'Iboke, cercando di riallineare la linea del fronte, spingere indietro i russi verso la parte sud-est del villaggio e hanno avviato operazioni offensive. Sfruttando l'esperienza delle proprie forze nella regione, gli ucraini sono riusciti nei loro intenti e gli scontri si sono ben presto spostati dentro il villaggio. Come risposta a questi sviluppi e l'accumularsi dei segnali che indicavano l'inizio della controoffensiva ucraina, l'alto comando russo ha deciso di intervenire preventivamente, cercando di interrompere l'accumularsi delle forze ucraine prima che fosse troppo tardi. Hanno aumentato il numero di munizioni circuitanti come i droni lancet per bersagliare l'equipaggiamento ucraino, cruciale per il successo delle operazioni nell'aria essendo caratterizzata da spazi aperti che favoriscono gli assalti meccanizzati. Geolocalizzazioni rilasciate dagli operatori russi mostrano vividamente uno sfondamento ucraino nelle posizioni russe. Il video riprende uno striker ucraino nascosto nella linea alberata davanti all'entrata ovest di Liboke, mentre tenta un attacco a sorpresa per destabilizzare le difese russe. Il drone lancet riesce a colpirlo mandandolo in fiamme. Questi assalti ucraini a ovest di Liboke avevano lo scopo di distrarre i russi dal vettore principale che veniva da est, come si può vedere dalle geolocalizzazioni distribuite dagli operatori della brigata ucraina Kartia. Le immagini mostrano almeno due corazzati ucraini mentre manovrano verso le loro posizioni per assaltare un rifugio russo nella linea alberata. Il BMP-1 ucraino fa fuoco sulle posizioni russe per sopprimere i difensori, permettendo al gruppo d'assalto di smontare dal trasporto truppe M113. Il BMP-1 inizia una lenta avanzata dall'altro lato, continuando col fuoco di soppressione a supporto delle truppe a terra. Nel frattempo è arrivato un altro M113, trasportando su ulteriori soldati ed evacuando i feriti. Sul veicolo possono essere notate le gabbie antidrone che si sono rivelate vitali poco dopo, quando un drone suicida nemico è detonato contro l'M113 ma non è riuscito a danneggiare il veicolo che ha potuto continuare con le sue operazioni. Il video completo e senza censure è disponibile sul nostro Telegram. Come risultato delle operazioni, gli ucraini sono riusciti a spingere indietro i russi, portando a rapporti di entrambi gli schieramenti che confermavano lo spostamento degli scontri dentro il villaggio di Liboke. Le forze russe, oramai esauste e con poco personale, dovendosi impegnare in imminenti rotazioni, hanno cominciato a minare le avanzate verso le posizioni, cercando di rallentare i progressi ucraini. Inoltre, si sono sentiti costretti a schierare una nuova arma del loro arsenale nel disperato tentativo di fermare lo slancio ucraino. Sono infatti affiorati video che mostrano l'uso di bombe fab da 3000 kg contro il villaggio di Lipsi. Secondo analisti ucraini, è probabile che i russi ne aumenteranno l'uso, come hanno fatto con le fab da 250, 500 e 1500, portando da sporadici usi a diventare sempre più frequenti. Nonostante la poca precisione della bomba, come visto dalle geolocalizzazioni, dove si può vederla mancare il bersaglio di 250 metri, il carico esplosivo di circa 1200 kg rimane un grosso pericolo. In generale, riprendendo l'iniziativa ed eseguendo contraattacchi ben coordinati, integrando tecnologie occidentali, l'Ucraina ha inflito enormi perdite alle forze russe, costringendole a una postura difensiva. Il sofisticato uso di attacchi multi-asse, oltre allo sfruttare le vulnerabilità delle difese russe, ne hanno interrotto i rifornimenti e la struttura di comando. Questa continua pressione ha portato i russi a dover reagire velocemente e spesso con pochi risultati, utilizzando una strategia reattiva anziché dinamica. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.